Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a risolvere questo esercizio insieme. Vogliamo realizzare due bobine a volte su un unico rocchetto. Conosciamo la sezione del rocchetto che è 8 cm² e la lunghezza che è 15 cm. Vogliamo realizzare due induttanze, una con valore L1 6 mH e l'altra con valore L2 2 mH. Alla prima bobina inoltre viene riservata una lunghezza di due terzi rispetto alla lunghezza del rocchetto. Vogliamo calcolare il numero di spire di ciascun avvolgimento. Quindi in linea di massima abbiamo uno schema di questo tipo. Se noi pensiamo di avere il nostro rocchetto così, possiamo farlo... ah beh... facciamolo così. Se no facciamo il rocchetto in nero e poi gli avvolgimenti li facciamo invece. Quindi abbiamo il nostro rocchetto, sappiamo la lunghezza... la lunghezza qua, tra qua e qua... e poi abbiamo in realtà... occhio e croce... se più o meno... due terzi, un terzo... ci sta. Quindi così e così. poi mettiamo il nostro avvolgimento. Quindi avremo un avvolgimento alle 1... in questo modo... e vabbè... insomma... più o meno... l'idea è quella lì... e poi invece è un avvolgimento alle 2... in questo modo... Allora... andiamo un attimino a definire... dunque... qui abbiamo... l1... l2... le due induttanze... poi invece abbiamo... l1... la lunghezza del primo... l2... la lunghezza del primo... l2... illdo questo secondo... il primo... l2... l3... touch e... la lunghezza... l1... era un evitato... l1... l1... l2... la lunghezza del primo... l2... o l1... l2... andiamo un avvolgimento alle 3... le lughezza del primo... ok... allora... per prima cosa... per differenza 5 cm quindi sono le due lunghezze ora a questo punto non ci resta altro che in realtà andare a fare la formula inversa quindi n1 sarà uguale a la radice quadrata andiamo a sostituire andando già a portare le lunghezze in centimetri centimetri quadrati in metri o metri quadrati quindi qua abbiamo scriviamo prima la formula l1 per l1 lunghezza fratto permeabilità per sezione in questo caso facciamo così quindi poi andiamo a sostituire allora radice quadrata allora qua dobbiamo fare attenzione sempre al discorso delle unità di misura delle potenze del 10 quindi 6 per 10 alla meno 3 che è l1 per 10 per 10 alla meno 2 dove questa qua è l1 espressa in metri poi qua abbiamo la permeabilità del vuoto 1,256 per 10 alla meno 6 e poi per s che è 8 per 10 alla meno 4 perché è in centimetri quadrati e devo trasformarlo in metri quadrati allora da questa ottengo dal calcolo 772,74 e quindi per il numero di spire ricordo devo sempre andare a prendere il numero intero superiore n2 uguale stessa cosa avrò questa formula con l2 la seconda bobina quindi l2 e la sua relativa lunghezza l2 la sezione è sempre la stesa perché è quella del rocchetto su cui vengono avvolte allora qui abbiamo l2 che è 2 per 10 alla meno 3 per la lunghezza l2 che è 5 per 10 alla meno 2 e poi sotto rimane tutto uguale perché sempre permeabilità magnetica del vuoto e la sezione che è sempre la stessa svolgo i calcoli e qua viene 315,47 e quindi il mio numero di spire sarà 316 quindi diciamo che poi di questa tipologia un po' per ragionare su su come possono variare perché in realtà poi si possono mettere sullo stesso rocchetto due tre avvolgimenti induttori quindi non c'è nessun problema sta solo la tensione bisogna solo porla su quello che è la lunghezza di uno e l'induttanza di uno rispetto all'altro quindi un esempio molto semplice però magari un po' diverso dal solito bene spero vi possa essere d'aiuto di essere stata chiara fatemelo sapere nei commenti ci vediamo alla prossima lezione al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.